ecco fatto tutta tua capitano grazie billy nooo no 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 darry è diversa dalle altre città in cui sono stato prima d'ora la gente muore o sparisce sei volte più della media nazionale e parlo degli adulti per i bambini è peggio molto molto peggio vogliamo tutti qua giù ho visto qualcosa c'era un clown l'ho visto anch'io allora le fogne collegano tutto è lì che vive che succede che cos'è che cos'è che cos'è bill se verrai con me galleggerai anche tu georgie Anche tu, anche tu, anche tu, anche tu! Respira. Pensa a respirare. Ora, abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. E' tanto più grande. Conosco una sola verità. Il tempo della fine dei Jedi è giunto. Lo so a che cosa pensi. Com'è successo? Beh, è una lunga storia. Asgard è stinta. Salve. Cos'hai portato oggi, dimmi. Un contendente. L'attrazione principale. Signori. Vi presento il vostro incredibile... Sì! Ci conosciamo. È un collega di lavoro. No, andiamo. Però è intelligente, lui. Che nome vuoi dargli? A te sembrano semplici scimmie. Sono animali! Ci ha salvato la vita. È stato straordinario. Scimmie insieme forti! Sei lui. Sei Cesare. Ti cerchiamo da tantissimo tempo. Non ho cominciato io questa guerra. Io combatto solo per proteggere scimmie. Umani diventano malati. Scimmie intelligenti. Umani uccidono scimmie. Ma non me. Io fungo. Ci sono momenti in cui è necessario abbandonare la nostra umanità per salvare l'umanità. Devono pagare. Finiamoli. Vi ho offerto pace. Vi ho mostrato pietà. Tu parli di pietà? Tanto lo so che alla fine ci rimpiazzeresti. È la legge della natura. Tu che avresti fatto? Cosa ti hanno promesso gli umani? Qualunque cosa tu faccia non sarai mai uno di loro. Tu sei scimmia. Noi siamo l'inizio. È la fine. Scimmie insieme forti. Noi siamo l'inizio. È la fine. Scimmie insieme forti. Sei venuto per salvare le tue scimmie? Sono venuto per te. Eggsy. Ho visto in te quello che un tempo qualcuno vide in me. Qualcosa che non si può insegnare. le qualità di un Kingsman. Ma essere un Kingsman è più dell'abito che indossiamo o dell'arma che impugniamo. È essere disposti a sacrificarsi per un bene superiore. Spero che tu sia pronto per quello che sta per succedere. e che non si può insegnare. Noi siamo l'abito che ci sono Grazie per la visione Santo cielo, Harry Il colpo, parliamone L'obiettivo è un furgone blindato alla perimetre Trost, alle 10 in punto Per questo motivo servirà per un modo di scambio Baby, al parcheggio della Long State Per le 8 Domanda? Ne ho una io, Doc Ciccio bello cuffietta Sentite una mezza parola di quello che hai detto Non ti fila Baby? L'obiettivo è un furgone blindato alla perimetre Trost, alle 10 in punto L'autodiscambio è pronta Ma devo prenderne un'altra al parcheggio della Long State Per garantirci l'anonimato più a lungo Deve essere pronta per le 8 Domande? Per quando ti conosco sei il mio autista per ogni colpo Sei il migliore Mi servi un'altra volta al volante L'ultimo lavoro è chiuso L'ultimo lavoro E siamo pari Ciao Ehi, Baby Perché sente sempre la musica? Da bambino ha avuto un incidente Un disturbato mentale? Qui sono io il disturbato mentale Il post è già preso Come ti chiami? Baby Ti chiami Baby Scritto B-A-B-Y In questo mondo Quando ti prendi una cotta Ti prendi un proiettile Sei il mio portafortuna E non farò questo colpo senza di te La tua amica cameriera è carina Conserviamola così Devo guidare ancora, ma non voglio E che cosa vuoi? Andarmene da qui Ci stai? Ci sto, Baby Tra 24 ore tutta la città ci darà la caccia Hai fatto i nostri nomi? Fa cantare il motore Non la boccaccia Ne usciamo Chiudiamo questa storia Che cosa fai, Baby? Che cazzatona da Oscar Tre Due La musica è finita Uno Giù dalla macchina Oh, la borsa Scusi signora Ma che cazzo Cominciò come una leggenda Una delle più grandi Lo teniamo nascosto da mille anni Per proteggere la terra Da ciò che era destinato ad arrivare Optimus Prime Hai distrutto la tua casa E cerchi redenzione Sì Mio creatore A tua figlia Che cosa diresti? Lavati i denti Lavora Sta alla larga da quelli delle band E specie i batteristi Sono tempi difficili Senza dei leader Il caos regna Due mondi Si scontrano E solo voi li potete fermare E ora la più grande delle missioni Invertire il corso della storia umana L'imminente distruzione di ciò che conosciamo e amiamo A inizio Io non ti lascio Quando tutto sembra perduto Un manipolo di coraggiosi Può salvare tutto ciò che conosciamo L'operazione è finita Noi non abbandoniamo Prime, ok? Voglio restare E voglio combattere Perché il mio mondo viva Il vostro deve morire Soggetto della relazione Agente operativo britannico Lorraine Broughton Prima di cominciare posso chiedere Che il signor Kurzfeld non sia presente Potrei stare dietro lo specchio Come tutti gli altri Coglione Che cosa hai detto? Non ho detto niente A me sembra che abbia parlato Cosa ha detto? Volete risentire il nastro? So che non segue le nostre regole Ma è la nostra migliore esperta di intelligence C'è un agente che fa il doppio gioco a Berlino Se non lo troviamo prima che crolli il muro Rischiamo la terza guerra mondiale Ricorda Non fidarti di nessuno Il tuo contatto è David Percival Benvenuta a Berlino Sono David Non sparare Ho la tua scarpa L'orologio corre Sono l'unico che può aiutarti Mi fido di te come del meteo in tv Mi hai mandato in un nido di vespe Ma lo sapevi benissimo Tu non hai idea di chi hai di fronte Spara Non faceva parte del piano Faceva parte del mio Cosa sai della donna che mi segue? Tu sei un tipo affascinante Due più due Quindi hai preso contatto con l'agente francese? Ovviamente Buonasera agente Broughton Ho scelto questa vita E un giorno Mi farà morire Ma non oggi Al decimo posto The War Il pianeta delle scimmie Al nono posto Thor Ragnarok All'ottavo posto Spider-Man Homecoming Al settimo posto Baby Driver Al sesto posto Atomica bionda Al quinto posto Valeria Nella città dei mille pianeti Al quarto posto Scappa Get Out Al terzo posto Star Wars Gli ultimi Jedi Al secondo posto Dunkirk E al primo posto It E questa è la classifica aggiornata Per vedere se la classifica cambierà Non perdetevi i prossimi trailer E per saperne di più su questo film Visitate il nostro sito Blog.screenweek.it Ciao